Cari amici buongiorno buongiorno e buon martedì a tutti quanti. Uno degli ultimi video in auto, meno fermo perché le temperature cominciano a essere abbastanza proibitive e cominciano a esserci anche le zanzari. Per me non sono un problema nel senso che io fortunatamente non vengo punto ma non mi piace averli in auto. In generale non mi piacciono gli insetti che invadono il mio spazio. Allora oggi è una giornata calda qui e volevo dirvi questa cosa, volevo parlare di qualità come sempre ormai sono diventato l'esponsabile qualità del Milan ma volevo dire anche un'altra cosa. Ora non so se anche voi avete avuto la stessa sensazione ma che razza di campionato di Frignoni che è diventata la Serie A? Sono tutti che piangono, tutti che piangono è quello perché gli hanno tolto i punti e quell'altro perché non c'ha la squadra e quell'altro così e quell'altro perché non può competere sui due fronti e quegli altri perché devono sostenersi e quegli altri. E' il campionato di Frignoni. Speriamo che si concluda presto perché non è stata una grande stagione però abbiamo ancora due appuntamenti del Milan importanti. Secondo i calcoli che ho letto questa notte, stamattina, a noi manca una vittoria per arrivare in Champions League quindi vediamo di farla, magari vediamo di farla domenica perché sarebbe bello ottenere la qualificazione attraverso una vittoria sul campo della Juventus. Sarebbe una cosa, come dire, non dico che ci risollerebbe la stagione ma ci darebbe un po' di conforto. Un po' di conforto. Quindi vediamo di fare una bella partita come abbiamo fatto all'andata e portiamoci a casa sta vittoria per evitare, come dire, di attraversare l'ultima settimana in un mare in tempesta. C'è questa opportunità, si è aperta questa porta, vediamo di entrarci e di giocare la Coppa Campione il prossimo anno e di farlo attraverso la costruzione di una squadra a regola d'arte. Questa mattina, a differenza di altri giorni dove i nomi che sono stati accostati al Milan, ci hanno fatto un po' malinconia, diciamoci la verità, questa mattina si è letto il nome che sarebbe proprio perfetto, il nome di Milinkovic Savic. Un nome buono ormai per tutte le stagioni, sta diventando l'elevazione del Baselli, quindi il top di gamma Baselli. Io non credo che arriverà, anche perché immagino voglia prendersi il contrattone, dato che ha 27-28 anni, quindi nel pieno della sua carriera, vorrà prendersi il contrattone in Inghilterra, ma questo, se dobbiamo parlare di calcio e se dobbiamo parlare di calciatori, questo sarebbe il nome perfetto, sarebbe il nome perfetto per qualsiasi centrocampo, figuriamoci per il nostro. Innanzitutto potrebbe, lo dico sottovoce, potrebbe anche toglierci l'equivoco del trequartista, perché questa mattina sui giornali veniva indicato come soluzione per la trequarti fisica che piacerebbe a Piole. In realtà Milinkovic Savic è una grande mezzala, un giocatore completo, un giocatore che anche in questa stagione ha fornito assist, ha fornito gol, ha delle caratteristiche che sarebbero perfette per noi, perché colpisce di testa, fa assist, ogni tanto tira anche delle buone punizioni, cosa sulla quale noi siamo un po' carenti, è tecnico ma fisico allo stesso tempo, conosce la serie A, potrebbe essere davvero il nome perfetto. Va a scadenza tra un anno, quindi magari con qualche magheggio lo si potrebbe portare a casa, seppur trattare con l'otito è un po' come andare dal dentista, purtroppo ho paura che non sarà lui, perché potrebbe essere il nome ideale per quello che vi ho detto e perché potrebbe toglierci l'equivoco del trequartista, perché Milinkovic Savic sarebbe perfetto da inserire in un centrocampo A3 del Milan. Voi vi immaginate un centrocampo con una mezzala di tecnica, una mezzala tecnica, mi immagino un Sebaios sano, una roba così, che potrebbe essere anche Adli, ma insomma. Un Tonali che aiutato dalla presenza di un Milinkovic Savic eviterebbe di consumare gli anni sul campo per la maglia del Milan, cosa che lui piace fare, ma noi dobbiamo anche ragionare un po' più in là, perché se continuiamo a fargli fare 50 metri, 60 metri in corsa di campo ogni partita, capirete bene che anche lui non essendo un X-Man prima o poi si infortunerà. Ci permetterebbe di guadagnare in centimetri, ci permetterebbe di guadagnare in tecnica, di avere un giocatore che fa assist, un giocatore che si inserisce in area, un giocatore che anche dalla tre quarti può mettere bei palloni filtranti per quello che sarà il nostro nuovo attaccante, perché se ci sono delle priorità in questo Milan sono centrocampista di qualità e reparto offensivo. Il reparto difensivo, che questa mattina è stato messo sulla graticola della Gazzetta dello Sport, dal mio punto di vista avrebbe bisogno di un giocatore che vada a sostituire Chiere, quindi un giocatore magari un po' di esperienza, ma non tanto in là con gli anni, che possa avere anche caratteristiche di marcatura, prima cosa, perché noi abbiamo un marcatore solo ciao e deve crescere, e anche magari con un piedino per poter iniziare l'azione. Chiedo tantissimo, lo so, lo so, ma se vogliamo sognare un Milan ideale, un Milan competitivo, dovremmo innestare questo giocatore in difesa, poi è chiaro che servirebbe un terzino destro, è chiaro che servirebbe un attaccante destro, ma soprattutto la parte centrale era parte d'attacco. Un giocatore, un attaccante, un centralanti scovato bene, che possa avere caratteristiche adatte al nostro gioco, magari veloce, rapido, che possa inserirsi, se fatto il nome di Aubameyang, ovviamente non sarà lui, ma a me non dispiacerebbe anche avere un giocatore come Openda, che in un certo senso ricorda per caratteristiche il giovane Aubameyang, cioè un attaccante anche rapido, veloce, non necessariamente fisico, questo ci toglierebbe da un altro equivoco, quello della catapulta. Quindi capite bene che con soli due innesti noi avremo la garanzia che il Milan il prossimo anno giocherà a calcio. Non è una cosa banale, non lo so che intenzioni avrà la dirigenza, non so che tipo di mercato si potrà andare a fare, tra tutti i nomi che sono passati adesso, in pochissimi mi soddisfano per l'idea che ho io di Milan, Minkovic-Savic sicuramente sì, al 300%. Poi se fate qualcuno o qualche amico, soprattutto voi anche al WhatsApp, al numero WhatsApp, che è il 366-111-2964, torna a talk tra qualche giorno, quindi continuate a mandare i vostri vocali qualche amico o più di qualcuno ha fatto il nome di Tillemans, che sta retrocedendo con l'Eister e che si libera anche a parametro zero. Questo sarebbe un altro nome molto importante. Non è Minkovic-Savic, ma è un giocatore di esperienza, un giocatore di qualità, un giocatore anche di quantità, tutto sommato, e lui sarebbe un altro perfetto nome. Immaginatevi un centrocampo con Tonali, Tillemans e Minkovic-Savic, si andrebbe a fare proprio la roba perfetta. Poi ci sono altri nomi che potrebbero andare bene per noi, ieri mio amico Giovanni Allegrini ha fatto il nome di Ricci, ad esempio del Torino, che è un bel giocatore, sicuramente meno di livello rispetto a questi nomi fatti finora, ma con caratteristiche simili, ad esempio con caratteristiche un po' la casa dei che abbiamo visto fare tanto bene con l'Under 20, ecco quel tipo di centrocampista lì, piede ma anche fisico, velocità d'azione, visione di gioco, questa roba qua, questa roba qua. Io imploro per il mina della prossima stagione innesti di qualità a centrocampo. Voglio vedere giocare il pallone, lo ripeterò per tutta l'estate o fino a quando non arriverà qualcuno che ci porterà questo tipo di caratteristiche. Mi sembra che stiamo, tra l'altro, se posso permettermi di farvi un complimento, stiamo impostando molto bene su questo canale la questione legata al mercato, cioè lo stiamo facendo con la giusta consapevolezza ma anche con, secondo me, l'obiettivo comune. Mi pare che quasi tutti abbiano individuato più o meno le cose che vorrei io e i nomi più o meno sono quelli usciti tra di noi, sono giocatori adatti a questo tipo di Milan, quindi questa cosa mi fa molto piacere, siamo allineati, siamo sulla stessa lunghezza d'onda, la questione Pioli è una questione a parte e ovviamente che incide sul discorso come giocherà il Milan, ma in questo momento credo che il rafforzamento della squadra sia l'obiettivo, dato che Pioli rimarrà e quindi ce ne facciamo una ragione. Siamo allineati, se avete altri nomi, se avete altre idee, me le scrivete qui sotto nei commenti, se vi fa piacere anche, se il video vi è piaciuto, se vi è intrattenuto una decina di minuti, magari mettete un like e continuiamo a discutere così, proponendo, analizzando, andando a incastrare i vari giocatori che servirebbero per riportare il nostro amato Milan a giocare a pallone e già questo sarebbe un bel vedere. Poi i risultati arriverebbero perché quando si gioca a calcio, insomma, avete visto la Lazio che con tutti i limiti di una rosa non eccezionale ma comunque molto buona, qualitativamente parlando, con una difesa fatta molto bene da Sarri, è riuscita ad arrivare a un obiettivo che non era proprio così scontato, cioè quello della qualificazione alla Champions League. Quindi avanti su questa strada. Alla prossima!